Ben trovati a Sport News. La Cucine Lube Civita Nova si ripete e approda la sua 19esima semifinale Scudetto, la settima consecutiva, la tredicesima negli ultimi 14 spareggi per il Tricolore. Nella bolgia di un aerosuole forum sold out, i campioni d'Italia chiudono in grande stile la rimonta contro la Vitu Verona, piegando gli scaligeri con il massimo scarto possibile, il servizio di Mario Sposetti. Contro tutte le previsioni, un 3-2 in una rimonta, meglio di così non poteva andare. Diciamo sì, è stato magnifico, anche la tredicesima partita qua in casa e da lì abbiamo saputo che se la poteva fare, se l'abbiamo messa tutta e alla fine abbiamo lograto il primo oggettivo che era vincere in gara 5 e era l'importante diciamo. Sono state due settimane intense soprattutto dal punto di vista mentale, ora un attimo di riposo e poi si vedrà chi sarà la prossima avversaria per quanto riguarda la semifinale. Diciamo sì, è stato molto dura, molto difficile anche come dici tu mentalmente ma abbiamo lavorato come squadra, siamo allenati, siamo messi in difficoltà ognuno, stiamo imparando, aiutandosi e alla fine abbiamo lograto l'obiettivo. Missione compiuta? Sì, questa missione è compiuta. Bravissimi, i ragazzi sono stati bravissimi, soprattutto a saper giocare con le spalle al muro sotto pressione che è una cosa non facile soprattutto per i ragazzi più giovani che non hanno molta esperienza o quasi nessuna esperienza di playoff. Riuscire a farlo è un motivo non solo di orgoglio ma è una dote che questi ragazzi hanno dimostrato di avere. Adesso l'asticella si alza, penseremo alla semifinale, ci guarderemo lunedì gara 5 tra Milano e Perugia e intanto siamo in Europa, che credo non sia da sottovalutare. È chiaro che ci sono due tipi d'Europa però per adesso ci godiamo 24 ore questa partita, questa vittoria e poi da lunedì ricominciamo a lavorare testa bassa come abbiamo fatto in tutto questo periodo sia quando le cose ci sono andate bene sia quando siamo stati più in difficoltà con impegno, con umiltà, cercare di limare le nostre imperfezioni e cercare di spingere forte sui nostri punti di forza. La Federazione Italiana di Atletica Leggera Legione Marche in collaborazione con l'associazione dilettantistica Crazy Sport organizza sabato 15 aprile a Tolentino i campionati regionali su pista di 10.000 metri assoluti al Della Vittoria. L'evento prevede la partecipazione di atleti, marchigiani, umbri ed abruzzesi avendo la gara a carattere interregionale e l'assegnazione di titoli individuali. Sabato prefestivo all'insegna del volley a Tolentino, nove le squadre partecipanti al Tolentino Future Volley, il torneo under 15 maschile che si è disputato in tre distinti impianti della città. I dettagli nel servizio curato da Leonardo Cotognini. Ottimo successo per la prima edizione del Tolentino Future Volley, torneo che ha messo in competizione le migliori squadre giovanili under 15 di Marche e Dumbria. Il successo è andato alle Cucine Lube Civitanova che nella finale si è imposta per 2-0 sulla nuova volley Loreto. Terzo posto per la Sissefte Perugia che ha superato Volley Matelica nella finale che ha assegnato il terzo gradino del podio. Manifestazione che si è svolta in contemporanea nelle tre strutture di Tolentino, il Pallachierici, la Palestra Lucatelli e il Pallagattari di Viale Vittorio Veneto. Il Palace di Tolentino, gremito di pubblico e squadre presenti, Videx Grozza Zulina, Volley Giovanile Perugia, Pallavolo Macerata, Futura Volley Tolentino e Esa Volley Matelica che hanno completato i rostel del torneo che si è trasformato in un punto di festa a fine giornata per tutta la Pallavolo Giovanile. Come è nata l'idea di questo torneo mettere 9 squadre under 15, i migliori per quanto riguardano le Marche e l'Umbria? Ma è un'idea che abbiamo condiviso con la società che è stata subito disponibilissima ad attuarla perché volevamo far misurare i nostri ragazzi con le migliori realtà di Marche Umbria. Le altre società sono dimostrate subito entusiaste per cui possiamo dire che veramente abbiamo le migliori squadre qua. I ragazzi tutti stanno giocando veramente alla morte, ci sono bellissime partite e siamo molto soddisfatti. Un format che sostanzialmente è ben riuscito e che quindi si può riproporre anche negli anni successivi? Sì, sì, già le squadre me le hanno chiesto se il prossimo anno verrà rifatto. Credo l'idea è quella di aumentare il numero delle squadre e allargarci un po' fuori. Sì, 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 esatto. Dicevamo appunto soprattutto è l'opportunità per far vedere ai giovani under 15 il fatto che praticamente questo può essere uno sport anche in prospettiva futura su cui impegnarsi in maniera particolare. Certo, noi puntiamo tanto qua a Tolentino alla crescita, già abbiamo un forte settore femminile, ci piacerebbe insomma crescere anche da un punto di vista maschile. Molti ragazzi si stanno avvicinando, arrivano settimana dopo settimana sempre ragazzi nuovi in palestra, noi siamo contentissimi e ci piacerebbe che questo torneo fosse un po' la spinta a dare un ulteriore entusiasmo insomma qua ai ragazzi anche di Tolentino a far vedere che anche la palla a volo può ritagliarsi il proprio spazio. Siamo qui con l'allenatore della Lube alla fine di un torneo comunque importante che avete portato a casa con un'ottima prestazione nel totale e forse tutto il torneo. Quanta soddisfazione c'è da parte sua e da parte dei propri giocatori? Beh, soddisfazione quando si vince qualcosa è sempre alta, assolutamente alta. I giocatori sono entusiasti ragazzi per cui quest'anno abbiamo avuto poche opportunità di giocare per cui fare tornei di questo genere ci fa assolutamente tanto, tanto, è tanto utile per le finali regionali che avremo domenica prossima. Quindi ottimo, bella organizzazione, siamo stati bene, quindi assolutamente è una bella cosa. Quanta soddisfazione c'è nel vedere realizzato qui in questa città un torneo così prestigioso? Guardi, noi siamo felicissimi e molto orgogliosi. Il merito va chiaramente alle nostre associazioni sportive del territorio, in questo caso alla Futura Volley Tolentino che è un'associazione storica e oggi ha organizzato un torneo veramente incredibile con tante squadre partecipanti che provengono anche da fuori regione e con squadre leader e in questo caso per la palla a volo. Io devo dire che sono stata contentissima perché appena sono arrivata ho ricevuto i complimenti dei allenatori tecnici delle altre squadre per come era stato organizzato il torneo, quindi a dimostrazione di quello che sanno fare le nostre associazioni del territorio. E proprio questa sera a questo torneo maschile dedicheremo uno speciale di approfondimento che sarà trasmesso su Canale 16 a partire dalle ore 21 a seguire l'integrale della partita finale. Entrambi verranno replicati nel corso dei prossimi giorni. E con quest'ultima notizia è tutto anche per questa edizione del nostro Tg, grazie per l'ascolto e buon proseguimento di serata.